ai microfoni di croceto sport e samuel liburdi uno dei leader della squadra insieme a capitano gianneschi baluardi e vari e gioari matteo e zanella che più perché sono molti che hanno veramente sono dei giocatori validi per la serie a2 però la situazione dell'atlante croceto in questo momento non è delle migliori allora chiedo al bomber samuel liburdi come se ne esce da questa situazione perché da poco prima delle feste o durante le visite natalizie è successo qualcosa ciao a tutti si franco medici te purtroppo dopo l'olimpia è stata partita il 23 dicembre siamo andati abbiamo staccato tutti da quando era iniziato il campionato a biterbo contro fabbrica le cose hanno iniziato a non andare soprattutto i risultati sono stati molto brutti perché abbiamo veniamo da tre sconfitte dove abbiamo perso 61 62 61 e tra quei due sono numeri del tennis che stavo vedendo ora appunto il quarto di finale del tennis di melbourne che si ne ha battuto problem e pertanto mi sono un po associato al tennis 61 62 se purtroppo fanno rumore fanno male la partita di sabato e ne è stata la prova perché comunque andiamo sotto 2 a 0 facciamo il 2 a 1 riprendiamo un po di coraggio buttano fuori l'uomo a loro e quando non riesce a pareggiare alla prima azione ti rifanno quantomeno non riesce a tirare in porta sì due minuti di superiorità sì quello ci mettiamo un po tutto tra sfortuna condizione fisica però io penso che la squadra stia lavorando stia facendo di tutto per comunque tornare al livello che era perché non penso eravamo né fenomeni prima però non siamo nemmeno scarsi adesso ecco il 23 dicembre una partita memorabile 5 a 5 con l'olimpia regime una delle migliori formazioni se non la migliore in senso assoluto comunque per il mio modo di vedere 5 5 con un arbitraggio che sono sempre a favore degli arbitri perché dico che nel calcio ma con tutte le discipline senza arbitri non si può giocare e a me personalmente che sono datato che ho giocato allenato dirigente sportivo dico questo giochino mi piace molto e devo continuare a seguirlo finché ce la faccio però la giornata accia degli arbitri in quel 23 dicembre c'è stata con qualche espulsione di troppo e compagnia bella ma un 5 a 5 vedere una squadra giocare come in quell'occasione e poi il buio sì il buio ha detto bene franco purtroppo la verità è questa dobbiamo io in primis perché mi sento responsabile di questa situazione perché comunque sono mancato queste tre partite e la squadra ha bisogno di me come ha bisogno di altri giocatori importanti è arrivato il mister nuovo e mi dispiace anche per chi è entrato in una situazione dove era difficile veramente se tutti possono avere colpe all'infuori che lui è arrivato lui ci ha messo comunque la sua voglia ci ha dato ovviamente ha provato a dare po perché in quei pochi giorni ha fatto diciamo ci poteva dare veramente poco dispiace che lo abbiamo fatto ritrovare una situazione di emergenza difficoltà e tutto però la squadra sta lavorando e ne uscirà bene come come è successo altre volte sabato scorso nell'intervista mi è sembrato di capire che il presidente jacopo tonnelli doveva venire in settimana non so se è venuto ieri sera o comunque verrà uno di questi si è all'allenamento perché a caldo non voleva parlare con voi subito mi sembrava giusto se pressa è venuta ieri sera diciamo che ci come si possa dire rispetto ad altre volte sta cercando di essere molto più presente al campo e questo per noi è importante anche con il mister nuovo mi sembra ha bisogno un po di tutti io che ci sia io che c'è ma tutti hanno bisogno di quando siamo una difficoltà siamo sia società giocatori allenatore siamo tutti in difficoltà quindi la loro vicinanza importante loro stanno facendo di tutto per farci stare bene e adesso manca solo i risultati veramente perché prima di concludere voglio dire due partite all'orizzonte che insomma nonostante oggi siena bella giornata fa venire i brividi perché il sabato prossimo a terni contro l'unicusano e poi arriva il bologna che pensare solo a cosa avete fatto a bologna una partita memorabile una vittoria che ha lasciato il segno sembrava poter uscire fuori poi è venuto anche il pareggio del 5 a 5 però ecco ultimamente avete parlato fra voi avete parlato il presidente ieri sera da questa come si va a terni a incontrare una squadra forte perché forte se prendiamo l'atlante grosseto uno per uno in cinque partenti i quattro partenti di movimento e oltre al portiere e con anche un cambio due ci sono ma poi e poi bisogna lavorare franco te l'ho detto noi purtroppo ci stanno mancando i miei gol ci sta mancando le prestazioni di altri giocatori ci sta mancando zanella e magari non è più fisicamente come era natale ci sta ma stiamo mancando tutti ma è lo stesso anche avete mangiato troppo panettoni come ci dice in gergo se mettiamola così mettiamola però ne verremo fuori questo se lo prometto voglio voglio ricordare concludendo che il signor liburdi qui accanto a me lo scorso stagione vero che in serie b un campionato di a2 e guarda in faccia una serie b però i giocatori ci sono ha realizzato la bellezza di 26 gol quest'anno siamo a 6 mi sembra è poca roba in bocca al lupo siamo a te tutta la squadra grazie grazie